La brava Antonella Clerici di recente avrebbe deciso di invitare il grande cantante toscano per eccellenza Luciano Ligabue dopo il cosiddetto il soprannominato messo tra virgolette Suco Gate. Diciamo quindi che infatti proprio la bella Antonellina ha aperto la puntata recente di Sempre Mezzogiorno sulle note di Lambrusco e Popcorn sul grande successo del grande Luciano Ligabue. Gli credo porta il vino ed io ti preparo il sugo così avrebbe detto al simpatico e meraviglioso Ligabue la bella dolce e simpatica e nonché meravigliosa Lucianina e Antonellina Clerici. Bene, accetterà il buon Luciano Ligabue il cantante toscano per eccellenza l'invito della simpatica Antonellina Clerici oppure farà orecchie da mercante e ignorerà o meglio di rinera l'invito ai posti di lardo a sentenza. Iscrivetevi, seguiva, commentate. Un caro stato nevole italiano, un narrato italiano. PS, questo video non vuole leggere la previsi di Antonella Clerici ma solo informare e stop. Nasce solo per questo motivo e non per altri motivi. Ciao a tutti.